Sono molto contenta perché è stato come un regalo perché insomma a un certo punto durante la pandemia ho pensato che non ci sarebbe stata l'estate quest'anno. Insomma è stato in fondo un regalo che è arrivato il fatto di poter comunque, anche se in un modo un po' pazzo, un po' strano, comunque fare questa benedetta estate tutti insieme. È evocativa dal punto di vista del sound perché c'è questo suono un po' gitano che ti fa venire voglia di ballare a piedi scalzi in riva al mar o in mezzo alla strada, però in realtà poi il tema trattato è il tema dell'amore diciamo digitale che è quanto mai diciamo un tema attuale anche appunto post pandemia, post lockdown, questa cosa si è accentuata ancora di più. Noi sperimentiamo diciamo l'amore, non l'amore, parliamo di relazioni, le relazioni attraverso il mondo digitale, attraverso la tecnologia oramai è una cosa che non è più nuova alle nostre vite, però ancora ci spiazza, no? Ci spiazza il fatto che a volte passiamo le ore a chattare e non vediamo le persone perché siamo presi dalle nostre cose, perché semplicemente è più comodo, perché anche perché è una novità e quindi come tutte le novità ci piace poi entrarci dentro, scarnificarle, arrivare fino in fondo proprio alla questione. Il gioco dell'amore è sempre, cioè il gioco delle relazioni è sempre un po' quello, no? Ti dico una cosa poi sparisco, poi stacco, cioè una volta non si poteva staccare il cellulare, adesso se uno ti vuol tenere in tensione cosa fa? Ti lancia un messaggino o una faccina, peggio ancora, non dice neanche una parola, ti lancia solo una faccina, un po' che non capisci cosa vuol dire e poi stacca il telefono, sparisce, tu dall'altra parte dici cosa avrà voluto dire, no? Invece magari è soltanto una tecnica per tenerti lì ad aspettare, a penzolare dalla corda, no? Ed è proprio il gioco del rincorrersi della relazione amorosa, se vuoi, che però è trasportata nel linguaggio di oggi, di internet, che è fatto proprio anch'esso scarnificato, ridotto all'osso, un po' perdendo la capacità di essere verbosi, il linguaggio che poi nel caso dell'italiano è anche molto forbito, è anche pieno di vocaboli, di sfumature, ecco si vanno un po' perdendo quelle sfumature e si diventa più scarni nel, diciamo, nel linguaggio e nella comunicazione, però si diventa più cervellotici, perché poi il linguaggio scarnificato ti spinge a essere più forse neurotico, più cervellotico, però è il mondo di oggi, è indubbio che sia così, in qualche modo va abbracciato, in qualche modo diciamo che ogni tanto ci procura qualche problema. Ho identificato un po' nel cuore blu il cuore dell'impavido, cioè del coraggioso, della persona che si butta, che butta il cuore oltre all'ostacolo e per me il cuore blu è il cuore che non ha paura, quindi forse il simbolo di questa canzone, se vogliamo parlare digitalmente, ai tempi moderni, usare un emotico, non uso il cuore blu. E invece come anticipazione posso soltanto dire una cosa, che non sarà un video banale e non sarà un video di da scalico, sarà un video che spariglia delle aspettative che uno ha, magari leggendo il testo, sentendo il testo, pensa che sia, diciamo, vicino al testo, invece, olè.